Grande successo per la quarta edizione del torneo di mini-basket Le Isole Hypercop, svoltosi sabato scorso nel parcheggio antistante il centro commerciale, per l'occasione trasformato in un campo da basket all'aperto. Più di 70 bambini fin dal mattino si sono sfidati in un quadrangolare che ha visto la partecipazione di Stresa, Virtus Verbagna, Incontro Gravellona e Fulgo Romagna, tutte società che collaborano tra loro e che dipendono più o meno direttamente dall'universo Paffoni. Il successo è andato ai giovani dello Stresa, allenati da Ivana Giannuzzi, che nella finalissima hanno sconfitto i parietà della Virtus Verbagna di Massimo Girardi. Sul terzo gradino del podio i padroni di casa dell'incontro Gravellona, allenati da Mirko Buarroti e al quarto posto la Fulgo Romagna di Matteo Arena. Alle premiazioni presenti il direttore del centro commerciale Alessandro Biella, l'assessore allo sport del comune di Gravellona, che ha patrocinato l'evento Mario Geraci. Durante la manifestazione è stato montato un canestro dove i clienti del centro commerciale hanno potuto cimentarsi con la palla a spicchi e bambini e genitori. hanno potuto pranzare all'interno del centro a prezzi agevolati.